buongiorno a tutti una pillola pratica e di canto a una a due voci ci saranno più esempi musicali con le note poste a diversa altezza con ormai la chiave di violino e talvolta la comparsa di alcune alterazioni in chiave che ci dicono a che altezza va cantato l'esercizio ci sarà modo per voi di intervenire come già in passato ogni tanto arriverà il segno I want you e questo significa che tocca a voi unirvi al canto con me eccoci a un primo esercizio vedete sulla sinistra io ho indicato la scaletta che parte dal G G A B C D ecco il primo esercizio in questo caso sono partito dal suono G e lo vedete anche scritto sul pentagramma questo è un G G A B C D tono tono semitono e tono non c'è bisogno di alterare nessuna delle cinque note in chiave vedete che c'è un diesis ma quello è un F all'altezza dell'F quindi ci servirà per dei ragionamenti futuri andiamo sicuramente a cantare do sol sol fa mi re do re sol fa mi re do questo invece è un esercizio che parte dal suono F vedete questo è F perché questo qui un po' più su è G parte dal suono F e quindi F G A B C qui abbiamo il tritono per poterli chiamare do re mi fa sol abbiamo bisogno vedete di abbassare il B qui al B molle in modo che noi avremo un intervallo di mezzo tono tra A e B molle e poi dal B molle al C ci sarà un tono intero eccolo qua in chiave il nostro bemolle è del G A B cioè sulla linea del B io all'inizio scrivo bemolle e questo bemolle varrà per tutti i fa quindi che incontrerò io avrei anche la possibilità di scrivere il fa ogni volta con il bemolle ma così come nell'algebra c'è questa possibilità di scriverlo all'inizio come se fosse fuori dalla parentesi e poi farlo valere per tutto il tempo suono un F sulla tastiera e lo canto do do sol fa mi re do do re sol fa mi re do ecco un gioco a due voci questa volta è in F come il secondo esercizio che abbiamo visto prima e la modalità sarà quella che abbiamo visto in passato io prima canto la prima voce poi la seconda poi insieme e poi chiedo a voi di partecipare prompti via do sol fa mi re sol do 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 prompti via do do re mi do re sol sol do do fa mi re sol do do sol fa mi re sol 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 do sol do 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 mi do sol sol do sol 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 mi reство la..? Pronti via do sovevi a ti sovevi Pronti via do sovevi a ti sovevi Pronti via do do re mi fa sol sol fa fa mi Pronti via do sovemi a chi sove saluto Pronti via do sovemi a chi 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 sovemi Pronti via, dolore, mi fa sol, sol fa, fa mi. E' stata una pillola di canto esclusivamente pratica, abbiamo cantato nell'estensione do sol sempre perché non c'è fretta nel proseguire ma a diverse altezze con la presenza a volte di alcune alterazioni in chiave e soprattutto abbiamo esplorato progressivamente le possibili combinazioni tra do e sol. Grazie, alla prossima! La palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi, esercizi da sviluppare individualmente in coppia e in piccolo gruppo per approfondire le conoscenze e per rinforzare le proprie capacità verso i prossimi passi.